che coinvolge tutto un certo tipo di fisica, la cosiddetta fisica newtoniana, la fisica classica, la fisica del reale, del reale macroscopico, quello che noi tocchiamo quotidianamente, sentiamo, vediamo, eccetera, eccetera. Ma c'è un'altra fisica, la fisica del piccolo, la fisica del, creduto da noi, dell'imponderabile, che non è assolutamente così imponderabile. E' ciò che in qualche modo ci governa. E' un governo democratico anche se ogni tanto ha delle rigidità, delle rigidità adatte perché noi stiamo ancora scoprendo. Nessuno può arrogarsi il diritto di dire conosco totalmente il pensiero quantistico, lo stiamo scoprendo. Lo stiamo scoprendo e dobbiamo avere dei principi fondamentali. Questi principi sono senz'altro l'informazione. Io rubo poco tempo, l'informazione, faccio un esempio veramente pratico, molto pratico. Se io ho degli ingotti d'oro, un esempio che amo fare perché è molto chiarificatore, se io ho degli ingotti d'oro mi preoccupo di portarmelo al cavo della banca di cui io ho una stima, una garanzia. Ma per portarli a questo cavo ho bisogno di guardie giurate, ho bisogno di un furgone blindato. Ecco, questa è la differenza tra l'informazione e l'energia. L'energia è importantissima ed è necessaria. Il furgone blindato e le guardie giurate devono esserci. Se no, il primo ladro da strapazzo mi ruba tutti i lingotti d'oro. Li perdo. Perdo che cosa? I lingotti d'oro. Perdo l'informazione. L'energia non è squalificata. L'energia è importante ma l'energia non è l'informazione e viceversa. Questo è un dato importantissimo. L'epigenetica è un esempio di questo. Noi abbiamo energia grazie alla relazione molecolare delle molecole tra di loro, abbiamo energia alla relazione dei geni tra di loro, ma l'informazione è l'epigenetica. L'epigenetica è una delle forme dell'informazione, l'epigenetica. Quindi l'epigenetica ci apre un mondo di plasticità, di universalità, di possibilità. È il mondo delle probabilità. Il famoso mondo delle probabilità che parte dal dubbio di Heisenberg nel principio di indeterminazione. E arriviamo dal principio di indeterminazione alla vera realtà dell'informazione. E anche questi due principi, no local e in time, sono importantissimi perché ci rivoluziona, ci fa scardinare i vecchi principi della nostra logica. Della logica con cui siamo cresciuti, ma non solo siamo cresciuti, ma siamo evoluti fino adesso. Tanto di cappello, l'evoluzione umana intendo, non solo l'evoluzione personale di ciascuno di noi. L'evoluzione umana si è progredita grazie a un certo tipo di logica che non regge più, inesorabilmente. La scienza ci viene incontro, la fisica soprattutto ci viene incontro per dimostrare questo. Che occorre cambiare, come diceva Fabio, come diceva Giorgio, cambiare parametri e paradigmi. No local e in time, è quasi uno slogan che dovremmo avere. No local sono intervalli, vuol dire che i famosi quanti, che poi accenneremo, sono intervalli in relazione tra loro, intervalli di spazio, intervalli puntiformi. In time sono momenti in relazione. Queste due definizioni, non local, intervalli in relazione e in time, momenti in relazione, ci dicono che c'è un termine in comune, la relazione. E quindi questa è una premessa per concetti che vedremo più tardi. Non local in time vuol dire che quindi lo spazio e il tempo non sono lo spazio e il tempo in una visione quantistica, ma è lo spazio-tempo, è un unico concetto, unitario, un concetto che è in qualche modo raggomitolato in se stesso. Avrete sentito parlare, senza pensare a Star Trek, del concetto della curvatura, della curvatura dello spazio e della curvatura del tempo. Non si può capire la quantistica se non si hanno un po' questi principi, questi principi che ci dicono che lo spazio non è un assoluto e il tempo non è un assoluto, ma sono curvi, in qualche modo raggiungono una certa puntualità, una certa centratura, e questo è molto importante. Altro principio è la granularità, che è la pacchettazione dei quanti. I quanti sono quanti di luce, i quanti danno un'informazione autonoma. Ogni quanto è un'informazione che è in relazione con il mondo intero, con il resto dell'universo. Quindi i quanti sono un pacchetto informato, un'energia direzionata. E se è direzionata in relazione un'energia con l'altro, un quanto con l'altro. Ecco, il concetto di entalgment, che in inglese vuol dire intreccio. Ci intrecciamo. Siamo in comunicazione continua, ma in comunicazione continua. L'ultima molecola di ossigeno di una nostra qualsiasi cellula, come noi stessi, noi esseri umani, non solo tra di noi esseri umani, ma con il cosmo intero. E questo ce la dicono lunga le tradizioni delle medicine antiche. L'uomo è il cosmo, il cosmo è l'uomo. Nulla di nuovo sotto il sole, come si vede. Il concetto di entalgment è fondamentale come il concetto di informazione. È una risonanza, e oggi si parla tanto di risonanza, il professor Spaggiari sarà il primo a parlare di questo principio fondamentale per capirci qualche cosa della quantistica. Ecco, la risonanza è il principio elementare per capire che tutto risuona tutto, quindi in comunicazione. Una comunicazione però correlata. Ma se una particella subattomica è correlata con una che è a distanza di anni luce una dall'altra, ma hanno una relazione, vuol dire che hanno anche una memoria. E quindi questa memoria è importante perché ci porta al salto quantico, permettetemi, della simultaneità. Io sono simultaneo perché abbiamo visto che ho annullato lo spazio e il tempo, e nello stesso tempo, se ho annullato lo spazio e il tempo, non esiste un principio di causa-effetto. E questo sicuramente fa tremare i punti, nel vero senso della parola. perché certi dogmi che noi abbiamo cadono e cedono. La simultaneità, quindi, è l'analogia, la sintonia, che è un vocabolo tanto amato dal nostro carissimo Carlos Orosco. La sintonia delle cose, la sintonia della realtà. Quindi la realtà è una sintonia, la realtà è una sinfonia, si potrebbe dire. Ecco che quindi, se ho la memoria, se ogni particella ha la memoria, e con questo concludo, noi abbiamo un progetto. Anche la più piccola particella ha un progetto, che noi magari con le nostre resistenze dell'Io non conosciamo, ma la nostra cellula, la nostra molecola, ce l'ha. Un progetto che è posto in un futuro. La causa inversa. Ecco, quindi, questa causa inversa ci porta a una visione totalmente opposta di quello che c'era fino a pochi decenni fa nella maggioranza del pensiero dei fisici, dei cosmologi, degli scienziati, dei ricercatori, cioè di un universo afinalistico, senza un fine. Ormai si è visto che l'universo è teleologico, non teologico, è teleologico. Quindi è finalizzato a un fine. Ecco qui, mi fermerei per, eventualmente faremo delle chiarificazioni ulteriori per quanto riguarda appunto certi principi. Adesso, allora, presentiamo il nostro carissimo amico spagnolo Estevan Peirò Munzò, che ci parlerà giustamente come introduzione all'epigenetica come un nuovo strumento professionale. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Antes che nada, ringrazio al signor Giorgio Tresciani che ci ha invitato come impresa spagnola a essere qui. E grazie anche al CEO della impresa Cellwell Bean, il Dr. Ian Lyon, che ci ha honrato con la sua presenza. Antes che nada, ringrazio, perché non ho parlato italiano, ma sicuro che mi compagnia lo farà meglio che io. E la parte che mi ha toccato a me oggi, magari è la parte più complicata. Vamos a parlare tutto il giorno di la epigenetica, del paradigma, della prevenzione, del nuovo concepto di benesterno e del professionale della salute. Però io ho un po' più difficile, che è trasportarlo al professionale final. È a dire, implantare la tecnologia di verità in gli centri medici, in le farmaci, in gli centri di fisioterapia, in gli centri di alto rendimento. La compagniera traduce. Buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per avermi invitato, grazie per aver voluto la mia presenza qui oggi. È un piacere per me essere qui con voi e parlarvi di me, della società per cui lavoro. Vorrei ringraziare in particolar modo il CEO di Cellwell Bean, che è presente qui con noi oggi. Vi chiedo scusa per il fatto che non parlo italiano, ma per questo ci sarà la traduzione. Il mio ruolo in realtà è il più difficile di tutti. Il più difficile perché il mio ruolo oggi è quello di parlarvi dell'epigenetica, del ruolo che sta acquisendo, del focus sulla prevenzione, cioè quello su cui i professionisti della salute e del benessere dovremmo concentrarci sempre di più, la prevenzione, ma in particolare la difficoltà del mio ruolo sta nello spiegarvi come si traduce la tecnologia che è derivata dall'epigenetica alla nostra pratica clinica medica quotidiana. Quindi come questa tecnologia possa essere utilizzata dai professionisti del settore sanitario, dai centri medici, dai centri fisioterapici, dalle farmacie. Grazie. Come dice il titolo, tu salute evoluciona e il mapa di la misma, lo che expresa il ADN, questo è lo che dice la epigenetica. Desde il anno 2003, del progetto Genoma Humano, noi dimos conto che il determinismo genetico non era un paradigma, sino che le cose dependiamo di quello che facciamo noi. Una delle lezioni più importanti che ci ha presentato la epigenetica è che le cose non passano per casualità, ma che succedono per casualità nel sero umano. E questo è un factor importantissimo. Quando parliamo di epigenetica a grandi rasgos, dentro di un professionale della salute, studiiamo come afecta nostra alimentazione, come afecta il medio ambiente nel quale interactuiamo, cargas electromagnetiche, quimici, metali pesati, e incluso come nos afecta il stato emocional. Questo è molto importante, perché siamo seres bioemocionali. l'epigenetica studia i cambiamenti di espressione genica, come afecta il fenotipo, l'alimentazione, l'ambiente, l'estate emozionale. E tutto questo compendio, tutto questo cocktail, che sembra senzio di spiegare in quattro minuti, come dice il compagno, però poi è un concetto vital. Perdono. Perdono. Partiamo dal titolo della mia presentazione, che è quello che vedete in basso in questa diapositiva. Scopri cosa esprime, il tuo DNA su di te. E questo è appunto il messaggio dell'epigenetica. Abbiamo scoperto con le ricerche negli ultimi anni che il paradigma deterministico sul quale c'eravamo basati negli anni precedenti in realtà non sta più in piedi. Le cose non succedono per caso, perché la natura o la genetica ha voluto così. Le cose succedono per rapporti di causa-effetto. E questo è un messaggio assolutamente importante, fondamentale. Di fatto, l'epigenetica non è altro che questo, cioè come l'alimentazione, l'ambiente in cui viviamo e con questo intendo campi elettromagnetici, elementi chimici, metalli a cui possiamo essere esposti, il nostro stato emotivo stesso, perché siamo esseri senzienti ed emotivi, quindi il nostro stato emotivo, tutto questo ha delle ripercussioni sull'espressione genica, quindi sul modo in cui il fenotipo si manifesta, sul modo in cui i nostri geni si esprimono. Grazie. Tutto questo che espliciamo in cinque minuti, come lo possiamo medire? E allora entra in gioco il nostro laboratorio, Cellwellbin, che lo che fa è che ci propone una tecnologia in cui, in forma sencilla, in forma rapida e poco invasiva, possiamo determinare questi fattori epigenetici che affettano i nostri pazienti. Cellwellbin è un laboratorio che tiene su sede amministrativa in Londres, scientifica in Alemania, in Hamburgo e proporziona tecnologiche di bioinformazione che ci aiutano, ci facilitano ai nostri professionali a diagnosticar, a lavorare nel plan di attuazione. Tutto questo che abbiamo condensato in pochi minuti ma che in realtà è un universo intero, come è possibile misurarlo? In questo ci viene in aiuto Cellwellbin. Cellwellbin è un'azienda che ci fornisce delle tecnologie di facile utilizzo, rapide e minimamente zero invasive per capire qual è l'effetto dei fattori epigenetici, abbiamo visto che sono molteplici, sull'organismo umano. Cellwellbin è un'azienda che ha sede a Londra e in Germania ed è un'azienda che ci permette di avere accesso alle informazioni epigenetiche che possiamo utilizzare di un'azienda di una filosofia di una filosofia nuova che costa molto di implementare. Io sto qui perché in Spagna ha sido un'azienda di un'azienda che è un'azienda di un'azienda di un'azienda medico e sanitario significa aiutarli ad aprire gli occhi e questo in realtà è piuttosto difficile, è sempre difficile introdurre nuove tecnologie, è sempre difficile implementare nuove tecnologie, nuove filosofie, nuovi approcci, nuovi modi di vedere le cose. Io sono qui in rappresentanza di Cellwellbin Spagna per portarvi una testimonianza di un caso di successo. In Spagna l'adozione e l'implementazione di queste tecnologie è stata un vero successo. Io mi sono occupato, ho seguito il progetto di adozione di queste tecnologie in Spagna e in America Latina nei paesi di lingua spagnola e sono qui appunto per dimostrarvi che la cosa è possibile, è possibile ottenere un ottimo risultato grazie appunto al collegamento di vari elementi, collegamento di nuove tecnologie e collegamento con i professionisti della salute. Grazie. Una parte molto importante della tecnologia è facilitar al professional respostas. Hoy in dia estare a una consulta di dietetica, di medicina è complicato perché il paciente in molti occasioni non sape lo che le occorre non sape troppo. Todo il mondo conosciamo perfectamente incluso parte del fenotipo non mi encuentro ben, mi duele la cabeza, non dormo ben, tengo problemi di piel, sto nervioso, perché? Non lo sé. Dammi una pastilla e soluzionamelo rapido. Non mi mareas. Quindi il professionista in alcune occasioni non riceve informazioni fidelina del paciente e elaborare un diagnostico è complicato. Una parte importante in cui ci vengono aiuti un elemento importante in cui ci vengono aiuti le tecnologie è quello di dare risposte e questa è una cosa sempre abbastanza difficile perché soprattutto dare risposte ai pazienti. I nostri pazienti molto spesso non sanno cosa succede, si rendono conto di alcuni aspetti che riguardano il loro genotipo, si rendono conto del fatto per esempio che stanno male, hanno spesso mal di testa, si sentono spesso stanchi, hanno problemi di salute però si rivolgono al professionale sanitario dicendo ok, ho questo problema risolvimelo. E per noi è veramente la sfida è saper dare una risposta adeguata a questo tipo di esigenza. Grazie. Uno dello esito importante in Spagna e quello che ha sido la clave è rodearnos di buoni professionali. la empresa española lavoriamo con il Real Madrid Club de Fútbol e in una occasione se le preguntò al entrenatore Zidane le dijeron Zidane eres il mejor e lui disse no non sono il mejor tengo il mejor equipo e per me è importantissimo tener un equipo di professionisti di alto livello di ambito universitario perché questa è una tecnologia molto seria una scienza molto complessa e è molto importante essere ben avalata per persone investigazioni scientifici e professionali della salute. La chiave del successo del progetto in Spagna penso che sia stata il fatto che ci siamo circondati di eccellenti professionisti abbiamo collaborato con i migliori professionisti in questo settore ad esempio lavoriamo con la squadra di calcio del Real Madrid all'allenatore del Real Madrid Zidane una volta è stato detto Zidane sei il migliore sei il migliore allenatore del mondo e la sua risposta è stata no non sono io ad essere il migliore è che ho il team migliore e questo è l'elemento fondamentale e questa è stata appunto la chiave del nostro successo avere un team eccellente perché stiamo lavorando con tecnologie complesse e avanzate dal punto di vista dell'innovazione scientifica stiamo lavorando con elementi scientifici difficili e è per questo che abbiamo bisogno del sostegno del supporto della collaborazione e del coinvolgimento di scienziati e ricercatori di altissimo livello grazie respiriamo siamo quello che assorbiamo quello che tocchiamo quello che respiriamo e addirittura quello che pensiamo e che sentiamo siamo l'unico essere vivente sulla terra che è in grado di ammalarsi a causa del pensiero di un pensiero per cui non possiamo limitarci appunto a ridurre il tutto all'alimentazione siamo esseri molto più complessi di così grazie che i professionali siano trasmissori di questa nuova filosofia e credo sinceramente che con l'informe di ottimizzazione del bienestar del well-being è una herramienta potentissima perché al fin al cabo lo che nos proporziona è informazione simplemente però se abbiamo informazione abbiamo le herramientas per attuare questa complessità queste informazioni sono importantissime ed è importantissimo sfruttare le informazioni che ci dà questa tecnologia non soltanto nei confronti del paziente ma anche soprattutto nei confronti del professionista sanitario perché sono loro i maestri della salute ora sempre più spesso ci si informa su internet i nostri pazienti si informano su internet ma in realtà è il professionista della salute quello che deve essere in grado di comprendere e trasmettere informazioni corrette trasmettere nuove filosofie e il report epigenetico di side well-being in questo ci aiuta moltissimo perché è un potentissimo strumento informativo che ci fornisce informazioni tra l'altro informazioni concrete che possiamo dare ai nostri pazienti in maniera comprensibile e sulle quali possiamo agire sulla base dei quali possiamo agire grazie qui la ultima tendenza in prevenzione Arvila Magna in Barcelona e molto importante clinica Las Gaunas perché è molto conosciuta in Spagna perché è la clinica di fisioterapia e recuperazione della selezione spagnola e food wall vi porterò vi porterò sono solo solo 4 esempi la clinica la clinica del dottor Marco Mazzucca a Madrid la clinica Chiron Palma della dottoressa Anna Enself la clinica Avrila Magna del dottor José Garcia a Barcellona e soprattutto la clinica Las Gaunas che è famosissima per essere lo studio di fisioterapia a cui si rivolge appunto la squadra del Real Madrid quindi sono collaboratori cliniche con cui collaboriamo di altissimo livello Otro settore importante perdono Otro settore molto importante in Spagna che ha sido quasi quasi il nostro precursore d'entrata nel mercato delle cliniche e degli medici ha sido il settore farmaceutico il settore farmaceutico è un settore in Spagna molto potente con molta credibilità in la calle anche a volte più che la propria medicina perché in televisione quando presentano algo dicono consulte con su medico o farmaceutico in Spagna un farmaceutico è la parola di Dio anche quindi le farmaciche sempre hanno sido una cultura molto cerrata al medicamento e ora si stanno abriendo molto a la cultura natural però questo genera problemi di dispensazione perché non è lo stesso servire un prodotto natural e interpretarlo che un medicamento quindi la tecnologia ha entrato con molta fuerza in i gruppi farmaceutici più importanti in Spagna e ci ha facilitato molto una expansione posteriore nel settore medico un altro settore di particolare rilevanza in Spagna che in realtà è stato un po' un precursore dell'entrata nel mercato di self well being della nostra entrata nel mercato spagnolo è stato quello delle farmacie le farmacie in Spagna hanno un ruolo centrale sono una realtà molto presente e percepita come molto credibile soprattutto dai pazienti dalle persone che non lavorano in ambito sanitario addirittura più credibili rispetto ai medici stessi non è un caso che in tutte le pubblicità di farmaci alla fine ci sia un piccolo disclaimer che chiede ai destinatari finali dell'annuncio pubblicitario di consultarsi con il proprio medico o farmacista i farmacisti hanno un ruolo veramente essenziale vitale nel settore sanitario spagnolo e in passato aveva un atteggiamento molto chiuso rispetto alle nuove tecnologie ma ora si stanno aprendo progressivamente al settore dei prodotti naturali degli integratori naturali e è stato questo l'aggancio che ci ha permesso di entrare con la nostra nuova tecnologia innanzitutto all'interno delle farmacie e quindi aprirci il campo ad una maggiore utilizzazione ad una maggiore diffusione di questa tecnologia in generale nel settore sanitario è un cocktail difficile per il professionale l'atleta oggi in dia rinden per encima di sus posibilità fisica e questo genera problemi e il campo del alto rendimento ha sido un gran èxito in spagna perché tanto club come l'atletico di Madrid il Real Madrid campeone mondiali dell'Ironman basano su preparazione con l'informe epigenetico io so io so che ha sido una parte dell'éxito importantissima perché i atleti sono l'immagine sociale i bambini i atleti della calle amateurs vogliono parecerni a loro lo che fa un atleta di elite lo copia la calle io so che ha sido un fattore importantissimo un altro settore chiave nella diffusione di questa nuova tecnologia in Spagna è stato quello dello sport in particolare lo sport professionistico lo sport elite e l'alto rendimento in ambito sportivo e fisico e questo è anche il settore in cui io stesso sono specializzato credo che l'epigenetica abbia molto da dire in questo senso ci possa aiutare moltissimo in questo ambito nell'ambito dello sport professionistico ci si sta concentrando sempre di più sull'ottimizzazione sul potenziamento del rendimento fisico ma anche nel contempo la tutela della salute la prevenzione degli infortuni la ripresa più rapida possibile in caso di infortunio ma tutto questo sempre cercando di potenziare al massimo il rendimento fisico alle volte anche all'eccesso ma parte del nostro successo in Spagna è stato appunto il fatto che ci siamo abbiamo lavorato insieme ai professionisti dello sport abbiamo menzionato prima la squadra del calcio del Real Madrid lavoriamo anche con l'Atletico Madrid la squadra di Ironman spagnola tutti questi si appoggiano al report epigenetico di Cell Wellbeing per migliorare e ottimizzare le loro prestazioni e questo è stato ripeto un fattore chiave del nostro successo perché i campioni sportivi sono percepiti come modelli come esempi a cui ambire da parte del pubblico in generale dei bambini che vogliono essere come i loro campioni dello sport e questo appunto è stato un elemento fondamentale per contribuire alla diffusione della nostra tecnologia in Spagna grazie al final il èxito di qualche spagnolo è essere professionale e credo che la clave per il S-Drive di forma in una clinica medica in un sector come la farmacia o il sector del deporte di alto rendimento lo comentavo ayer con i nostri con i compagni per a me hai una o tre che sono clave la prima è formazione la seconda è formazione e la tercera è formazione è importante formare del professionale per a che sepa che tecnologie tiene tra le mani che sta midendo il S-Drive come lo mide che appartologia è questa che informazione proporciona perché in ocasione un vocabulario incorrecto nos lleva a formas di expresione incorrecta che generano duda e ante eso incredibilità e quindi il problema lo creiamo noi non la tecnologia con la nostra forma di parlare quindi è importantissimo la formazione del professionale perché un professionale formato è un paciente cliente ben informato alla fine della fiera il successo di un'azienda dipende sempre comunque dalla professionalità e in questo S-Drive ci aiuta moltissimo soprattutto se sappiamo sfruttare bene sfruttare al meglio questa tecnologia io dico sempre che le parole chiave nel successo di un'azienda ma di una qualsiasi cosa in realtà sono tre formazione formazione e formazione è essenziale lavorare sulla formazione fornire una formazione di ottimo livello orientata soprattutto al professionista sanitario è il professionista che usa questa tecnologia che deve conoscerla a fondo deve capirne i meccanismi i funzionamenti i limiti cosa misura quali sono le informazioni che dà e come possiamo usarle al meglio se un professionista non conosce a fondo la tecnologia che usa non sarà in grado di dare informazioni accurate e pertanto credibili e quindi perderà di credibilità l'intera tecnologia e i risultati che può offrire io amo ripetere che un professionista ben formato porta ad un paziente ben formato ed educato nel senso di consapevole grazie creo e per questo termino non voglio alargar molto mi tempo perché poi tendremo a las 5 di la tarda con il doctor Carlos una pratica un poco ma directa di lo che è il sdrave il informe ma direttamente però voglio termine la conversazione qui la charla credo che abbiamo una opportunità di oro sempre hablamos di che concienciare la persona nel benestar la prevenzione è che non che che non essere professionali della enfermedà sino realmente essere professionali della salute e credo che questo mecanismo questa tecnologia nos aiuto molto a ella è facile di utilizzare poco invasiva facile di transportare proporciona una informazione molto interessante per un profilo di salute credo che abbiamo una opportunità di oro per una parola che a mi mi encanta nel campo del benestar che è concienciare la concienza hace che la gente haga le cose perché se non las hacen per obligazione e al final la gente se cansa quando adquiere concienza adquiere cambios de hábitos de vida non se trata de comer una dieta se trata de saber masticar de ingerir una hidratación correcta de saber nutrirse de saber limpiarse de saber hacer una detoxificación de saber protegerse de las etc cuando la gente se conciencia toma acción y lo crea como un hábito de vida y esta es nuestra responsabilidad real con la tecnología S-Drive voglio dilungarmi oltre perché comunque nel pomeriggio insieme a Carlos vi daremo maggiori dettagli sulla tecnologia S-Drive e su come si presenta il report e su quali informazioni ci dà vorrei concludere la mia presentazione questa mattina facendo sottolineando un concetto che secondo me è essenziale cioè quello che abbiamo di fronte a noi un'opportunità unica un'opportunità enorme che dobbiamo sfruttare al meglio e questa opportunità è quella di aumentare la consapevolezza nei confronti di temi quali la prevenzione il benessere la salute intesa in campo globale noi come professionisti del settore sanitario dobbiamo trasformarci sempre di più in professionisti della salute mentre fino adesso quello che abbiamo fatto è stato essere più che altro professionisti delle malattie abbiamo curato le malattie senza prenderci cura in realtà della salute in senso globale e in questo senso questa tecnologia ci aiuta moltissimo perché è una tecnologia di facile utilizzo perché è leggera perché è portatile perché è comodissima da usare perché ci fornisce una serie di informazioni utilissime appunto per migliorare nei pazienti la consapevolezza del loro stato di salute complessivo e in questo modo generare in loro dei cambiamenti permanenti delle loro abitudini e del loro stile di vita le persone cambiano il loro modo di agire per due ragioni o per obbligo o perché hanno capito che è necessario hanno capito si sono resi conto che è necessario quando cambiano il loro modo di vivere per obbligo non sono solitamente cambiamenti duraturi o permanenti perché è un obbligo perché ci si stanca degli obblighi se invece si capisce quali sono le ragioni per cui è necessario apportare dei cambiamenti alla propria vita quindi se si acquisisce consapevolezza di tutto questo allora è possibile ottenere delle azioni veramente durature veramente permanenti grazie a tutti i miei miei colleghi in spagna, come ho detto prima, non siamo buoni, ma abbiamo un buon equipaggio, e ciò ci fa lavorare in modo professionale. Credo che siamo in un campo, la salute, il benestore, che è un campo molto serio, cada giorno più complicato per come evoluzione la società e le tecnologie, e credo che cuidarsi, come dice la frase, è una necessità, ma fare bene è un arte, e esos artisti siamo noi, i professionisti della salute, che abbiamo che trasmettere questa filosofia a la gente. Mi ha gustado molto la presentazione di Giorgio, perché ha posto a suo padre, io vi ho mettere di esempio a mio abuelo, che non vive, e io sempre pensavo perché non si cuidò, perché fumava, perché non hacía nada, non tenia informazioni. oggi abbiamo tecnologie, internet, informazione, potendo cambiare per concienza, seguimos cambiando per dolor. Nostra lavoro, e la del laboratorio Cell Wellbeing, è trasmitire questa filosofia al pubblico final, che sono portatori della sua propria biologia, della sua propria decisione final, la salute depende di loro. La epigenetica ha insegnato che la tua salute depende di te. Io avevo un professore alla università che mi diceva, Esteban, se non tiensi tempo per cuidarti, magari un giorno tiensi tempo per essere enfermo. Quindi credo che è nostra lavoro, trasmitire tutto lo che oggi vamos a recebire qui, a nostro cliente final. Quindi grazie per ascoltare, grazie per questo auditorio, grazie a mio equivo, al Dr. Ian Lyon, per la sua opportunità, a Giorgio. Enhorabuena alla traductora, tiene pacienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrei concludere questo breve intervento innanzitutto ringraziando il mio team in Spagna, il mio team di collaboratori. Come dicevo prima, non è che noi siamo bravi, è che abbiamo veramente una grande squadra. Nel settore della salute e del benessere abbiamo sempre più difficoltà. Ci troviamo di fronte ad un momento difficile, causato dai cambiamenti della società, della filosofia, ed è difficile trasmettere questi cambiamenti ai professionisti della salute stessi innanzitutto, e poi ai destinatari finali. Ma secondo me, come ho messo come titolo di questa diapositiva, prenderti cura di te è una necessità. Farlo bene è un'arte. E gli artisti di questa arte siamo noi, siamo i professionisti della salute. Per cui il nostro ruolo in questo cambiamento di paradigma e di filosofia è veramente fondamentale. Mi ha colpito molto il riferimento che ha fatto Giorgio a suo padre. Vorrei anche io portarvi un piccolo esempio tratto dalla mia storia e vorrei parlarvi di mio nonno. Mio nonno è morto giovane perché fumava, perché non si è mai veramente preso cura di se stesso. E non l'ha mai fatto perché non ha mai avuto le informazioni necessarie a farlo. Oggi invece abbiamo le informazioni. Abbiamo le tecnologie che ci danno accesso a queste informazioni. E quindi oggi non c'è nessuna ragione al mondo per non essere consapevoli del fatto che la salute è nelle nostre mani. Anche se sappiamo tutto questo e sappiamo quali sono i cambiamenti che dobbiamo apportare alla nostra vita per vivere meglio, continuiamo a cambiare soltanto quando siamo obbligati a farlo. Ancora non facciamo cambiamenti sulla base della consapevolezza, ma sulla base del dolore. Ecco, noi è questo che dobbiamo andare a modificare. Il mio professore all'università soleva ripetermi Esteban, se non hai tempo di trattarti bene, di curarti, allora probabilmente in futuro avrai tempo di ammalarti. E noi è su questo che dobbiamo agire. E' questo il messaggio che dobbiamo assolutamente trasmettere. Concludo di nuovo ringraziando tutti, ringraziando gli organizzatori di questo convegno, Giorgio, ringraziando il CEO di Cell Wellbeing che mi ha permesso di essere qui oggi, ringraziando la traduttrice che ricambia. E ringraziandovi di nuovo per l'attenzione, per avermi dato la possibilità di parlare davanti a voi oggi. Grazie. Applausi 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 Applausi